Quella del 6 agosto 2011 è una data da ricordare per la popolazione suterese. Sabato alle ore 17 molte persone hanno potuto assistere alla dimostrazione del funzionamento dell'ascensore che collega il piccolo paese suterese alla cima del monte San Paolino. Questo grande mezzo meccanico, quando verrà aperto al pubblico, permetterà anche ai più piccoli e soprattutto ai più anziani di raggiungere il santuario senza problemi. Noi dello staff della Web TV del Vallone abbiamo avuto l'onore di essere fra i primi a viaggiare su questo imponente mezzo e abbiamo raccolto per voi e ai nostri microfoni i pareri tecnici dei protagonisti della realizzazione di questo ascensore e le testimonianze di chi, come noi, ha potuto provare le emozioni regalate dal viaggio su di esso. Allora, l'idea di questo ascensore è alleggiata nell'aria per anni. Quando è che questa idea è cominciata piano piano a diventare realtà e soprattutto come? L'ascensore è nato come un'idea della precedente amministrazione ma era un'idea molto errata anche perché in un primo momento ha avuto il nulla osta paesaggistico da parte della sovrintendenza che subito dopo è stato negato, per cui l'ascensore era perduto malgrado il finanziamento del Pitti Bio Valley. Poi siamo riusciti a riavere con grandi sforzi e modificando la struttura dell'ascensore il nulla osta paesaggistico della sovrintendenza e quindi l'abbiamo potuto realizzare. Devo dire che ancora non è perfettamente realizzato anche perché per poter essere agibile e aperto al pubblico bisogna l'autorizzazione dell'USPF che è un braccio del Ministero dei trasporti in quanto l'ascensore è equiparato a mezzo pubblico su rotaia. Quindi sono tutta una serie di accorgimenti di sicurezza che debbano essere mantenuti. Oggi infatti noi daremo soltanto una dimostrazione, non si tratta di una inaugurazione ma è una dimostrazione per dare un'idea alla gente della meccanica di funzionamento dell'ascensore. Quindi sempre un conto è l'idea, un altro è la pratica. Adesso ci troviamo di fronte comunque all'ascensore completo. È proprio come se lei se l'aspettava oppure è un po' diverso dalle aspettative? No, è un gioiello della tecnica, sicuramente una struttura molto bella inserita anche nel paesaggio. Chiaramente ha bisogno ancora di alcune cose per essere ultimato. Come voi notate manca una struttura per lo sbigliettamento, poi mancano dei sistemi di sicurezza per intervallare tra l'ascensore verticale e quello sul piano obliquo. Mancano anche gli strumenti per interventi di soccorso in caso dovesse esserci qualche problema. Un anemometro per esempio, un parangolo, una cosa di questo genere. Tutto questo sarà avviato quando noi avremo un elenco perfetto da parte dell'Ustef e anche il collaudo da parte della Maspero che è stata la ditta che ha fornito l'ascensore. Diciamo, quando è che questo ascensore diventerà quindi ufficialmente funzionante per il pubblico? Allora, io sono convinto che noi dobbiamo fare ancora degli investimenti per rendere l'ascensore fruibile al pubblico. Ma abbiamo anche un problema che è un problema di gestione. Non c'è, non c'è stato mai un piano economico e finanziario per quanto riguarda l'ascensore. Ad occhio e croce abbiamo fatto un conto che per farlo funzionare con personale comunale che in ogni caso deve essere formato e anche fisicamente idoneo per lavorare presso questa struttura abbiamo bisogno di intorno a 60.000 euro. Noi speriamo per quest'anno, attraverso un recupero e delle manovre di bilancio, di poter recuperare una parte di questi soldi e quindi stabilire i contratti. Quello di manutenzione con la Maspero per quanto riguarda tutto l'anno e poi anche un responsabile d'esercizio che si piglia la responsabilità della messa in moto, della messa in funzione dell'ascensore. Siamo ai piedi dell'ascensore, dell'impianto mobile che collega il paese con il santuario, il monte San Paolino. Oggi è una data importante perché facciamo la dimostrazione del funzionamento dell'ascensore. Di dimostrazione perché ancora, pur essendo il collaudo fatto dal punto di vista statico, però ancora ci manca l'ultimo collaudo fatto dall'Ustif che è quell'associazione che appunto fa il collaudo proprio dell'ascensore stesso. È una cosa importante per il paese perché è un veicolo che veramente potrebbe fare molto per il turismo. Speriamo intanto di aprirlo quindi al più presto e quindi di cercare di metterlo in funzione e farlo anche e gestirlo prima appunto con il comune. Poi vediamo se c'è qualche imprenditore, qualche imprenditore che magari vede e crede nel turismo che può prenderselo in gestione. Noi ci abbiamo puntato tantissimo su questo ascensore, anche perché molti ci hanno puntato e ci puntano ancora proprio per una svolta storica del turismo qui a Sutera. Abbiamo fatto tanto per il turismo, siamo il paese bandiera arancione, siamo riusciti insomma anche a fare dei pacchetti turistici, abbiamo una manifestazione importante che è per esempio vivente di Sutera, però questo penso che sia il volano necessario per far decollare una volta per tutte il turismo nella nostra zona. Dunque questa è stata un'opera che è stata pensata anni addietro, esattamente nel 1998 ed è stata realizzata dopo 13 anni. Questa è stata un'opera che è stata portata a termine con la collaborazione diciamo di tutti dall'amministrazione comunale, dal sottoscritto che ha impegnato tutte le sue energie per la sua realizzazione e anche e soprattutto anche per l'impresa che ha realizzato i lavori. Questa è stata un'opera che è una delle più grandi opere mai realizzate in Sicilia, non solo per la sua difficoltà ma anche per la scassezza di mezzi economici e noi facendo miracoli non lo diremo come perché è un segreto che tratteremo per noi, è stata realizzata. Quest'opera è costata appena un miliardo e 600 milioni, se voi pensate che ci sono opere che costano 10 milioni, la funivia di Erici è costata circa 20 milioni di euro, cioè 10 volte di questa, quindi è stato un qualcosa di eccezionale. Le difficoltà ci sono state sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo perché questo è un paese, dovete sapere, che ha almeno 19 vincoli per cui lo Stato ha aggravato tutti i vincoli però non ha mai dato niente per fare in modo che questi vincoli venissero superati, abbiamo il vincolo ideologico, vincolo salventendenza, centro storico, giornata a sferire, cioè tutti i vincoli, non abbiamo nessun vantaggio di questi vincoli, per cui qua abbiamo avuto bloccati i lavori prima dalla sovrintendenza, poi l'abbiamo risolto, poi il genere civile, cioè opere che in altri paesi civili si sarebbero fatte in due anni, qua abbiamo impiegato 11 anni per questo pastoio burocrato che penalizzano, io lo sottoscrivo e lo ripeto penalizzano il paese di Suttera senza che in cambio ha mai ricevuto niente da parte dello Stato che ha imposto questi vincoli. Io spero che con questo ascensore si creino le basi, le premesse per lo sviluppo turistico di Suttera perché questo ascensore se dovesse servire solo per andare sul monte e scendere io sono dell'idea che si chiude, questa deve essere la premessa per creare le condizioni di uno sviluppo turistico, in che senso? Sul monte San Paolino c'è la chiesa, c'è la sala del ristorante e quindi l'ascensore dovrebbe servire da tramite per fare convegni, matrimoni e creare un minimo di condizioni di sviluppo ma non solo per Suttera ma per tutta la zona. Grazie. Allora raccogliamo le prime impressioni di questo secondo viaggio all'interno di questo fantastico mezzo, com'è stato? Bellissimo, stupendo, è da vedere, è da provare. Grazie. Lei invece diciamo come l'ha visto, com'è stato viaggiare su questa macchina? Grazie a tutti i complimenti, hanno fatto veramente un bel lavoro, silenziosissimo, non si sente niente, c'è una bella panoramica, meglio di così non si poteva andare. L'ascensore per Suttera può creare la svolta turistica, nel senso che è un ascensore non solo panoramico ma darà la possibilità di incrementare anche il turismo religioso e il turismo convegnistico. Se noi riusciamo a trasportare a Suttera l'attenzione di quelle che sono le strutture, le associazioni, gli enti che fanno turismo, noi abbiamo dato una prospettiva economica al nostro Paese. Quindi questa non è una scommessa ma è la scommessa che questo Comune deve fare con se stesso per poter decollare.